Evitare un monocolore di centro-sinistra e contrastare quelle che vengono definite le bugie dell'amministrazione regionale sui rifiuti. Questo è l'obiettivo della lista Campania Pulita, promossa dal presidente del gruppo consigliare a Palazzo Santa Lucia di Fratelli d'Italia, oltre che dall'ex responsabile provinciale del partito Cuozzo, dal sindaco di Positano de Lucia, e dall'ex primo cittadino di San Severino, Romano, per le recenti elezioni dell'Eda, lente d'ambito, destinato a sostituire gli Ato per una serie di competenze, in particolare quelle legate al ciclo rifiuti. A dirlo lo stesso Gambino, che ha voluto spiegare i motivi che hanno portato al progetto Campania Pulita, che ha potuto contare anche sul supporto di Roberto Celano di Forza Italia. Gli eletti Nunzio Carpentieri e Giampiero Nuzzo vigileranno in sostanza dall'interno sulla situazione rifiuti, puntando a chiarire i dubbi che per Gambino si stanno profilando. Per l'esponente di centrodestra ci sarebbero contraddizioni tra De Luca e il suo assessore all'ambiente, nonché vicepresidente Bonavitacola, sulla serie di aspetti come discariche, termomalorizzatori ed ecoballe. Abbiamo coinvolto una serie di sindaci, di amministratori della nostra provincia, perché ritenevamo e riteniamo oggi, più di ieri, importante far sentire anche la voce di chi, che evidentemente non condivide quelle che sono le strategie, le scelte e soprattutto, a mio avviso, le menzogne che quotidianamente ci vengono dette dal governatore De Luca rispetto a un tema così importante e delicato, appunto quello dei rifiuti qui nella gestione dei rifiuti in Regione Campania e nella nostra provincia. Fu detto in consiglio regionale che non c'era bisogno di altre discariche, oggi da vicepresidente Bonavitacola, oggi invece apprendiamo che c'è bisogno di aprire nuove discariche, addirittura si parlava di uno termomalizzatore qui in Campania, visto che è stato bocciato il piano dal governo nazionale. Ma poi, siete tutti testimoni, si parla quotidianamente, si sbandiera ai 7 eventi il fatto che finalmente sono state eliminate le ecoballe dalla nostra regione. Bugia. Sono stati stanziati dal governo nazionale milioni di euro. Si doveva andare in gara nel corso di quest'anno per eliminare 800.000 ecoballe dalla nostra regione. è stata fatta la gara invece per 500.000 ecoballe e udite, udite, sapete quante ne sono state eliminate da quelle che sono risultanze di interrogazione che è sottoscritto a fatto ai dirigenti della giunta regionale? Soltanto 50.000.